No, adesso facciamo la reaction in live allo scooter di Usquarna Io mi insogio Ivan mi clicchi Ah, cosa stavo dicendo prima a proposito di arancione? Cos'è che devo cliccare? Clicca cena Cioè c'è scritto cena perché ho sbagliato Ovviamente facciamo le cose Oh mio Ok, scooter Nel mente dico una cosa Prima quando parlavi del sole giallo, io dico che arancione Nel video del K Ho fatto verniciare il telaio di arancione Ok Ma ti giuro, ma proprio nella maniera più eronica possibile Io il mio meccanico diciamo Comunque come vede Ma bro, ma è un Niu Ma è uguale al Niu, è uguale al Niu Ah sì, ha un po' per la loro opinion Me lo comprerei Ah, ti posso dire Ti posso dire No, ma no Perché Usquarna C'è scritto È elettrico Beh, io lo voglio provare Scusate Usquarna Ragazzi, tutti Siete perché Ragazzi, tutti stanno su No Sull'elettrico ormai No Ma è il Niu Leggi un po' la carta di Sire Ma zio, ma zio Per sapere di più No, ma zio No, ma zio Guarda Guarda che sto faro Sto faro E' uguale E' uguale E' uguale Dai, lo so L'ho visto pure Bru Beh, oddio E' uguale E' uguale No È similissimo Sì, sì No, ma di brutto E' lui Boh, sembra un Cavasaghi A me sai cosa sembra A me una Ducanti Sì, sì Guardiamo la foto Bianco No, ma il bianco Non è il colore Per sapere di più Watch video Per sapere di più Bello Come la chiamano Che aerodinamico Vector Come la chiamano? Vector Vector Ci sta Guarda Quella cosa cazzo Quella cazzo Quella roba intenso Strano Cosa cazzo Non può sapere Mezzo Ah, quelli E' mobili C'è 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 E' Pille Perché Come concept Guarda che C'è Il video No È Chiapazze È Tutto Amore Ammortizzatore Comunque Ma Ricorda Ma Io Voglio Provarle Squarna Lo so 8 8 kilowatt O Pochino 8 kilowatt Si Si Vede Che Snellina Comunque Però Forse Pesa Poco Ma Di cosa Stiamo Parlando No Beh 8 kilowatt E Poche Batterie Quello Intendo Sicuramente Minore Rispetto Sì Ti Dura 15 Kilometri Però C'è Però Scusate Un attimo Io Voglio Vedere Quella Specie Di Monopattino Strano Ma Cos' È Sta Roba Qua Quello È Monopattino È Il Blitz È Il Famoso Blitz Ma E Qua Non c'è Un Video No Ma Sì Il Monopattino Ma È Un Monopattino A Quanto Parle Una Pattina Letta Che Quella Roma Qua Un Concept Per Quello Ti Guardiamo Io Vettore Concept No Sì No Che Pesa Male Io Volevo Provare Arrivate La FBI Sono Arrivate Le Pizze Che Sono Ragazzi Sono Le 19.42 Le 514.970 MHz